Per la prima volta dopo 15 anni la spesa sanitaria è sotto controllo, lo ha dichiarato il presidente della regione Piemonte, Roberto Cota, durante la consueta conferenza stampa di fine anno. La sanità, ha osservato Cota, rappresenta l'82% del bilancio regionale. Negli ultimi anni la spesa è cresciuta senza controllo del 26%. Metterla sotto controllo significa dare garanzia ai cittadini che siamo in grado di governare la macchina. Il bilancio per quanto riguarda la sanità è un bilancio molto positivo perché è la prima volta in 15 anni che la spesa sanitaria viene messa sotto controllo. Non solo non è cresciuta quest'anno ma c'è stata una riduzione di 100 milioni di euro, quindi vuol dire che questa belva impazzita è stata governata. Ma perché noi la vogliamo governare? Per costruire una sanità moderna, sostenibile, che sia in grado di fornire dei servizi ai cittadini e non un sistema destinato ad esplodere. Il presidente Cota, che si è detto preoccupato per la fase 2 annunciata dal premier Monti, ha aggiunto di non voler introdurre nuove tasse e lavorare per le riforme e per lo sviluppo, garantendo servizi ai cittadini e sostegno alle imprese. Sarà un anno difficile. Io per esempio do un giudizio molto negativo sulla manovra che è stata fatta dal governo a Roma. Per questo motivo. Perché ritengo, come lo ritengono sostanzialmente tutti, che il problema centrale sia quello di cercare di avere un po' di ripresa. E se si mettono nuove tasse, cioè se si fa una politica di nuove tasse, è impossibile realizzare la ripresa. Cioè è impossibile che il nostro sistema produttivo diventi più competitivo. Quindi sono preoccupato. Io quello che voglio fare come presidente della regione è una politica che faccia quelle riforme regionali necessarie per sostenere, per affrontare anche questo momento di difficoltà. Quindi per esempio noi, per quanto riguarda il rapporto con le imprese, abbiamo scelto una linea completamente diversa. Cioè abbiamo scelto la linea delle misure di incentivo nei limiti di quello che possiamo fare noi per le imprese che vengono in Piemonte e la linea di non mettere nuove tasse regionali. Noi non abbiamo messo un euro di nuove tasse regionali. L'addizionale regionale IRPEF che è aumentata, è aumentata perché il governo a Roma con un atto unilaterale ha deciso di aumentare lui la nostra quota. Ma noi non abbiamo messo un euro di nuove tasse regionali perché il sistema non può permetterselo.